Allora Jonathan che cosa chiedi? Io sono un esploratore. Sai che cosa vuol dire essere un esploratore? Essere un ragazzo di Dio e di Dio e di Dio. E per quanto tempo? Se Dio lo vorrà. Per sempre. Che cosa prometti? Prometto con l'aiuto di Dio, prometto il mio onore di fare il mio meglio, di compiere un mio dovere, di aiutare verso Dio e verso il mio paese, per aiutare gli altri in circostanza e per osservare le leggi sottose. Allora il cavo squadria dei falchi accompagna Mattia per la promessa. Allora Mattia, vuoi diventare un esploratore? Per quanto tempo? Per sempre? Allora, prometti con l'aiuto di Dio di fare del tuo meglio? Allora, quando? Allora? Allora, accettare un esploratore? Quattro quando?